Musica Nell'ambito dell'azione di Cassa Depositi e Prestiti e del nuovo piano industriale, il turismo è sicuramente una delle linee di azione importanti. Questa azione si svolge attraverso un intervento nel settore immobiliare, attraverso un recente strumento finanziario che è il Fondo di Investimenti Turismo, che è un fondo immobiliare che investe in immobili. Contestualmente l'attività viene svolta anche attraverso CDP Equity, che è una società del gruppo che investe invece in aziende a destinazione alberghiera. Cosa è il FIT? Il FIT è un fondo di investimenti immobiliari che ha la finalità di investire in immobili e destinazioni turistiche alberghiera nel territorio nazionale, quindi garantendo una sostenibilità economica e finanziaria delle operazioni come un qualsiasi investitore, ma al tempo stesso garantire quella che noi chiamiamo la finalità pubblica dell'intervento, cioè creare sostanzialmente sviluppo del territorio e anche una crescita del contesto economico. Le operazioni di investimento immobiliare sono effettuate favorendo quello che è la separazione fra la proprietà e la gestione, perché crediamo che questo scorporo possa favorire sicuramente il gestore in quanto ha delle risorse per la crescita, al tempo stesso stabilizza il gestore stesso e quindi rende più sicuro l'investimento immobiliare. La destinazione degli investimenti è tutto il territorio nazionale, destinazioni mare, montagna, città principali e secondarie, quindi c'è una estrema flessibilità. L'obiettivo della Cassa Depositi e Prestiti è anche quello di attrarre investimenti, quindi di coinvolgere nell'operazione investitori terzi. Questo attraverso un ruolo di anchor investor, quindi di investitore che è sul territorio, che garantisce sicuramente capacità operativa, ma al tempo stesso garanzia verso l'investitore istituzionale che si affaccia in questo ambito di investimento. Sicuramente è un momento importante perché il turismo sta vivendo sicuramente delle numeri in crescita, a tempo stesso gli investitori istituzionali cercano rendimento e gli asset class tradizionali come uffici e retail oggi stanno soffrendo di una compressione di yield importanti, quindi reputiamo e crediamo che l'investimento nel real estate hospitality possa garantire rendimento, ma un rendimento stabile nel tempo. In particolare, nell'ambito dell'attività del fondo FIT, la SGR ha effettuato i primi investimenti col fondo FT1, quindi che è un prodotto esistente già operativo e si sta attrezzando per collocare e coinvolgere gli altri investitori in questo tipo di prodotto finanziario. Quali sono le caratteristiche principali? Un fondo di lunga durata, diversificato sia a livello geografico ma anche a livello di asset class, quindi si va da strutture leisure a strutture cosiddette siti hotel, ma anche diversificato all'interno della stessa asset class avendo gestori diversi. Uno dei criteri importanti, oltre alle qualità degli immobili e quindi alla potenzialità anche degli immobili di essere valorizzati e anche quella di avere una diversificazione che possa garantire quel rendimento che molti investitori oggi stanno cercando.